Grazie ai fondi della regione, alla Dispori sono stati avviati gli interventi di sostituzione dei lampioni sulle lungomare. Le strutture, spiega l'assessore ai laurei pubblici Veronica De Santis, possiedono un design moderno e hanno le luci a LED che consentiranno un risparmio sui consumi di energia. Si procederà quindi, ha terminato De Santis, con il cambio totale dei lampioni per la parte delle lungomare Regina Elena, che ha rilevato malfunzionamenti in varie occasioni. Intanto, sempre dalla Pisana, arriva la conferma che nel bilancio triennale è previsto il finanziamento di 5 milioni e 800 mila euro per la difesa della costa dall'erosione. A tal proposito, il gruppo locale del PD ha proposto che il Consiglio Comunale nomini una commissione nella quale ci siano tecnici del settore, imprenditori balneari e pescatori, in modo da approvare progetti condivisi ed efficaci. Se i risultati saranno positivi, dichiarano i rappresentanti del Partito Democratico, le spiagge torneranno ad essere più larghe e sarà possibile ridisegnare e ampliare il nostro lungomare.